ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi realizzeremo un layout con il tema delle pecorelle delle mongolfiere sono dei file che ho stampato su cartoncino da 300 grammi e ritagliato gli ho presi suezzi con licenza commerciale e utilizzerò anche questo prodotto nuovo della we are memory keepers che sembrano praticamente dei righellini ogni righello dà la possibilità di creare praticamente degli strappi diversi quello che mi avete visto usare è una sorta di uniposca lo ricordo molto solo che all'interno ci si mette l'acqua e serve quando si deve strappare una carta con una grammatura abbastanza elevata e il risultato mi ha sorpreso perché comunque come si vede anche dagli esempi che hanno messo sulla confezione lo strappo non risulta proprio così preciso come risultato a me ma risulta proprio strappato quindi si vede la carta più strappata invece il mio è uscito un lavoro preciso sembra tagliato con un plotter quindi o comunque con una taglierina che ha quell'effetto in questo caso io ho scelto la lavorazione a scallop perché mi piace parecchio ma comunque come avete visto le guide sono tre quindi un po' alla volta useremo anche le altre per iniziare ho scelto questa appunto perché andavo ad utilizzare comunque delle sagomine con questo aspetto un po' tondo e quindi mi piaceva un po' richiamare il tutto prima di tutto allora ho utilizzato il cartoncino extra white della tommy design e vado a ricreare con lo stencil della my favorite things quella apposta per creare le nuvole la mia base per il lavoro perché praticamente voglio che una parte del mio layout sia coperta con questa carta che ho cercato di abbinare ai colori delle mie sagomine e diciamo che ci sta molto bene perché comunque ha questo rosa tenue e del lilla e mi piaceva comunque come abbinamento e per quanto riguarda invece il cielo sono andata a contrasto quindi ho creato un cielo con delle colorazioni più o meno naturali perché ovviamente il peacock feather non è proprio un colore che si vede diciamo in natura però è un effetto che sulle nuvole mi piace veramente molto quindi sono andata ad utilizzare due tipologie di azzurri uno molto chiaro e uno molto scuro e questo colore che comunque è tendenzialmente verso anche il verde che però dà un bel contrasto e devo dire che mi piace sempre molto nelle nuvole poi chi mi segue da un po' sa che io le nuvole le ho create di tutti i colori dal multicolor a scale di rosa scale di viola arancio rosse verdi per tutti i gusti avevo creato anche una serie di segnalibri con tutte queste nuvole colorate devo dire che mi piacciono sempre molto era da un po' che non usavo questo stencil quindi ci ho preso gusto tant'è che vedrete un altro lavoro perché questa è la versione femminile del file il file è anche una versione ovviamente per i maschietti perché di per sé come file nascono per i battesimi loro li chiamano così e quindi ho acquistato tre serie e le vedrete comunque man mano poi le ho anche mescolate però mi sono piaciute molto e quindi le vedrete per un po' perché ho il mio greggio personale al piano di sopra perché le ho ritagliate come se non ci fossero domani perché giustamente in un 30x30 pensavo che ci stesse il mondo e quindi ho pecore in abbondanza comunque ritornando al discorso come vedete una volta finita la parte del cielo semplicemente vado a poi posizionare sopra quello che è comunque il mio cartoncino in questo modo ho potuto prendere le misure e sono andato comunque a fare la parte di nuvola anche dove avevo pensavo che comunque il cartoncino lo andasse poi a ricoprire quindi semplicemente ho ripassato i punti che mi servivano comunque o dove volevo dare maggior colore o comunque dove non erano coperti all'inizio l'idea era appunto quella di fare metà e metà esatta poi dopo man mano che andavo avanti col lavoro se io avrei fatto la copertura di metà lavoro avrei tolto un bel pezzo di nuvole il che mi dispiaceva un po' troppo perché comunque l'effetto mi piace sempre molto e quindi alla fine vedete ho cercato di girare per capire come evitare di rovinare il lavoro e tenere comunque una parte di nuvole quindi la decisione è stata quella di non fare metà lavoro coperto con la carta pattern ma di far di lasciarne un pezzo maggiore in questo modo avevo un'apertura maggiore sulle nuvole quindi diventano un po' il centro della mia decorazione quindi semplicemente sempre con la colla vinilica sono andata ad incollare il lavoro e vedete che comunque interessante sia l'effetto comunque a contrasto e anche questo effetto scallop devo dire che a me piace veramente moltissimo infatti mi è rimasta l'altra metà che è tagliata perfetta e la utilizzeremo sicuramente per altri lavori allora anche in questo caso una cosa che a me piace fare molto è di lavorare utilizzando anche la parte esterna quindi non lavoro solo all'interno del mio 30 per 30 o 30,5 per 30,5 che in realtà è la misura reale dei fogli ma vado a utilizzare anche l'esterno anche perché so che è un lavoro che comunque non va inserito in una cornice logicamente se si lavorasse su un lavoro da cornice i discorsi cambiano poi a secondo delle esigenze si va a modificare in questo caso sapevo cosa dovevo farne e quindi lavoro in esterno in questo modo anche maggiore spazio di lavoro posso mettere anche immagini più grandi posso mettere varie cose che se no non mi permetterebbe di farlo in uno spazio comunque così ridotto allora una delle basi comunque dello scrapbooking del mix and media è quello anche di utilizzare materiali di recupero trovare degli spessori sarebbe una cosa abbastanza proibitiva si si trovano ma ha dei costi enormi quando comunque è molto facile che in casa abbiamo già qualcosa che sia adatto a quelle che sono le nostre esigenze quindi appunto utilizzando questi materiali si va un po' al recupero per una questione però estetica quando mi trovo degli spessori abbastanza alti io vado a rivestirli con un nastrino quindi delle volte vado ad abbinare con i colori a secondo di quanto può essere notato in questo caso ho utilizzato del nastrino bianco che avevo cioè è nuovo mi era avanzato non ne avevo tantissimo ma per questo lavoro era più che sufficienza e in questo modo quando anche si appende il lavoro o se si decide di lasciarlo anche solo su un mobile appoggiato da qualsiasi punto di vista si vada comunque a controllarlo non si vede il cartoncino craft che ovviamente essendo così da recupero è un po grezzo e non secondo il mio punto di vista non sarebbe una cosa carina da far vedere quindi tutto quello che io spessorato con questo cartoncino all'incirca di un centimetro io sono andata a rivestirlo con il nastrino il biadesivo che mi dà comunque la possibilità di farlo incollare un po meglio e anche la colla per sicurezza ho usato spessori ovviamente diversi quindi in questo caso per la pecorella sulla luna ho usato uno spessore all'incirca di un centimetro per questo a mongolfiera ho utilizzato uno spessorato classico quindi sono andata con solo il biadesivo spessorato anche qui ero un po indecisa sui colori da utilizzare per la mattatura avevo deciso di stare col glitter giusto per dare un po di tono perché se non c'è qualcosa che brilla non sarei io e alla fine ho deciso di usare questo chiaro perché il rosa secondo me era troppo forte rispetto ai colori molto più pastello che ho utilizzato appunto in queste clip art quindi anche qua ho deciso di fare una mattatura a rilievo quindi sono andata a prendere le misure ho preparato due pezzi di cartoncino come vedete metto prima il biadesivo metto un po di colla quando non mi vedete perché magari sto bruciando il nastrino in modo che non non si sfili che non è una cosa carina da vedersi e dopo incollo il tutto in questo modo il nastrino non si muove più dalla mia base e quindi non mi dà alcun tipo di problema non ho il timore che il biadesivo col tempo mi faccia scollare le cose perché ad esempio col caldo il biadesivo tende a scollarsi molto l'ho visto in vari lavori quindi preferisco sempre dare un puntino di colla e so che vado un attimino sul sul sicuro e non ho alcun tipo di problema quindi vado a fare la mia mattatura molto semplicemente senza senza niente di che come vedete si sposta ancora perché comunque utilizzando la colla vinilica si ha la possibilità di sistemare il lavoro perché abbiamo un attimino di gioco come tempistiche di lavoro in questo caso anche la seconda mongolfiera ho deciso di spessorarla con il cartoncino quindi in modo di dare un livello di tridimensionalità diverso al lavoro e anche così un po l'impatto e anche per quanto riguarda la mattatura ho deciso di decorarla tutta con questi fiorellini che ho ritagliato a mano e ho lasciato appositamente la parte della mattatura proprio a lato quindi non l'ho messa obliqua non l'ho messa più centrale perché mi piaceva appunto l'idea di uscire un po fuori dal contorno del lavoro con i fiori e li ho messi anche nella parte interna perché in questo modo si può scegliere sia di utilizzare una fotografia normale quindi 10x15 si può scegliere di utilizzare anche un'immagine più piccola si può decidere anche solo ad andare ad applicare magari una card con una frase una poesia che ci piace particolarmente e in questo modo comunque si hanno i fiori visibili visibili sempre anche se si decide di mettere una fotografia c'è tutta la parte esterna del fiore comunque un minimo di bordino nella mattatura si laccia e se si decide di mettere una foto più piccola rimane sempre tutta la parte decorativa ad esempio mi è capitato di fare dei quadretti simili all'interno mettere una frase e quindi una mattatura di questo tipo con i fiori che vanno anche sulla parte dove dopo si appoggia la nostra immagine o la nostra frase e rimane comunque sempre interessante devo dire che queste clip art come le ho viste mi hanno fatto proprio innamorare e lo vedrete andando avanti col tempo e alla fine ho deciso di decorare appunto con questa scritta smile che mi sembrava la più indicata fatemi sapere cosa ne pensate spero che vi piacciono le pecorelle perché vedrete molti lavori con questo tipo di decorazione ovviamente lavori diversi vedrete anche la versione fatta per un bambino sempre utilizzando questa linea di file quindi questo design che devo dire mi è piaciuto moltissimo e vedrete molte altre cose perché secondo me sono dei file che possono essere utilizzati e adattati per varie occasioni io vi saluto vi ringrazio tutti per i commenti per i like e perché mi seguite e anche i nuovi iscritti ciao a tutti e al prossimo video